I militari del Comando Provinciale di Napoli, nell'ambito di controllo e a tutela del settore dei beni e dei servizi in vista di Carnevale e della festa di San Valentino, hanno sequestrato oltre 225 mila articoli contraffatti e pericolosi per la salute degli acquirenti. Dopo gli interventi sono stati segnalati complessivamente 22 individui alla locale Camera di Commercio per violazioni ai dettami del Codice del Consumo. Altri otto sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie a vario titolo per i reati di frodo in commercio e ricettazione. In particolare a Napoli, i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego, a seguito di un accesso in un esercizio commerciale nel quartiere di Gianturco, hanno sequestrato oltre 173 mila articoli di San Valentino recanti marchiocei non conforme. Il titolare dell'attività, un cittadino di origini cinesi, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. A Portice e fuoriodischia, le fiamme gialle del primo gruppo di Napoli hanno controllato 12 esercizi commerciali che esponevano in vendita prodotti falsi e non conformi agli standard di sicurezza. Al termine dell'attività sono stati sequestrati circa 15 mila articoli tra accessori adobbi e gadget. A carico di due titolari è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria, mentre altri cinque responsabili sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio. Tra Pompei, Sorrento, Piano di Sorrento e Vichequenze, oltre 18 mila articoli tra maschere, vestiti, parrucche e accessori vari, sono stati inoltre sequestrati dal gruppo di Torre Annunziata nel corso di sette interventi. In questo caso due soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, mentre altri sette sono stati segnalati in via amministrativa.